Cida o un maniaco, non si sa mai di questi tempi. Sai sempre come rassicurarmi, eh? Dai, sei stupenda, però sbrigati prima che cambi idea. Era molto meglio come l'avevo messo io. Eh, sì, forse hai ragione. Dovrei, dovrei imparare a non impicciarmi di tutto. Aspetta che ti aiuto. Grazie. Tieni. Ecco, grazie. Anch'io ho un cugino gay. Giuro. Oh, sì, 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 ce l'hanno quasi tutti. Eh, andiamo? È uno eccezionale. Ah, sì, ci credo. Lo sai che ha scoperto di essere gay solo un paio di mesi fa? Beh, cercherò il numero sull'elenco. Tre nuovi abbonati. Andiamo. È stato un piacere, ciao Bobby.